Allora in realtà per oggi ho in mente un video diverso, uno di quelli dove si vedono tanti componenti tutti insieme, avete già capito di che cosa si tratta, ma come a volte accade ho avuto qualche problemino tecnico, quindi ho rimediato preparando al volo questo, quest'altro contenuto che comunque vi volevo portare. Benvenuti su Prophecy, io sono Kernan e mentre iniziano a spuntare fuori i primi video unboxing sulle nuove Nvidia RTX io vorrei ragionare insieme a voi, insieme a voi perché come sempre è graditissimo qualsiasi commento da parte vostra sulla situazione schede video che potrebbe profilarsi nei prossimi mesi, da qui fino alla fine dell'anno. Soprattutto parlando di schede video di fascia media o meglio di quelle schede video che dovrebbero competere ad una fascia di prezzo accessibile ai più, visto che in tanti ci siamo rimasti male quando sono state presentate le nuove RTX Nvidia perché hanno un prezzo al di là se valgono quelle cifre o meno oggettivamente elevato fuori dalla portata di molti noi videogiocatori acquirenti. Allora qualche giorno fa, perché in realtà è passato qualche giorno, al CD 2018 Global Technology Conference il CFO di Nvidia ha rilasciato una sorta di intervista dove sono state dette diverse cose interessanti. E ad un certo punto di questo bot risposta il dirigente, che poi è una donna, Colette Cress, ha fatto intendere come le GTX Pascal rimarranno ancora sul mercato per diversi mesi, coesistendo almeno fino alla fine dell'anno insieme alle RTX Touring. Del resto, ormai da tantissimo tempo, ci sono rumors secondo i quali Nvidia ha ancora uno stock imponente di GTX Pascal da smaltire che si porta ancora dietro dalla situazione mining. E la strategia di Nvidia a questo punto sembra abbastanza chiara, con la RTX ad un prezzo molto elevato, molto elevato rispetto comunque anche alle Pascal di fascia alta, che quindi non vanno ad intaccare il mercato proprio di queste ultime. E ciò implica due cose. La prima è che al 99,9% non vedremo sul mercato una 2060 prima del 2019, prima che Nvidia abbia fatto fuori appunto questo stock di Pascal, che poi probabilmente sarà una GTX e non una RTX, sto parlando della 2060, ma questa è un'altra storia. E la seconda cosa è che ci sono buone possibilità che vedremo un taglio di prezzi per quanto riguarda le GTX Pascal, soprattutto per la fascia alta. Questa è una cosa che so che state aspettando in tantissimi, o meglio che tanti di voi si auspicano, perché oggettivamente l'idea di poter trovare sul mercato ad esempio una 1080 Ti a 600€, sto facendo un esempio, o una GTX 1080 con facilità a 450-400€, sarebbe una cosa molto allettante, perché ancora sono delle schede video che in 1080p a refresh elevato, o in 1440p danno grandi soddisfazioni su praticamente tutti i titoli attualmente in commercio. Poi ci saranno le feste natalizie, ancora prima il Black Friday, ecco potrebbe essere uno dei Black Friday più interessanti, questo in arrivo, lato schede video, lo so che sto sognando ragazzi, ma lasciatemi fare. Insomma si profila un Q4, una fine dell'anno molto interessante, dove ci potrebbero essere diverse possibilità di cogliere qualche vero affare lato GPU. Noi ovviamente seguiremo tutte le mosse di Nvidia e proporremo configurazioni sia con le nuove RTX, quindi parlando di PC di fascia molto alta, che ancora con le GTX Pascal. A proposito di configurazione e di offerte, vi invito a gioinare assolutamente il nostro canale Telegram. Ci abbiamo lavorato ad agosto, abbiamo lavorato sul layout dei messaggi che vedete che vi arrivano e contiamo di portare sempre, va bene, le offerte come già abbiamo fatto in parte e anche le configurazioni sul canale. Perché come sapete per portare una configurazione che continueranno ad arrivare, non vi preoccupate, in video comunque ci vuole del tempo, bisogna organizzarsi, non sempre si è capace di sfruttare l'offerta dell'ultimo momento. Magari ci sono dei momenti in cui dei componenti messi insieme ci fanno risparmiare perché sfruttiamo più offerte, ma bisogna essere celeri nella pubblicazione e spesso, almeno per come lavoriamo noi, questa cosa su YouTube non è possibile. Con Telegram è molto più facile editare un post e farlo in velocità, quindi ripeto, se volete stare aggiornati sulle configurazioni, assolutamente vi invito ad aggiornare il nostro canale Telegram, dove peraltro trovate anche le singole offerte. Ne abbiamo pubblicate diverse anche sull'usato, sull'usato del warehouse deals, dell'Amazon warehouse deals, per chi non lo conoscesse, è l'usato che mette a disposizione Amazon, avete tutte le garanzie, così come se compraste materiali, prodotti nuovi e avete anche lì la politica di reso. Quindi se non vi piace, se ci trovate un graffietto di troppo potete rimandarlo indietro, ma il più delle volte io vi posso dire, specie se comprate l'usato in ottime condizioni o come nuovo, che veramente parliamo di prodotti ad un prezzo inferiore rispetto al nuovo, che però sono nuovi a tutti gli effetti. Vi sto facendo vedere l'unboxing ad esempio di una GTX 1080 SC Gaming delle VGA, che ho acquistato a fine luglio per meno di 450€, e ragazzi la state vedendo, è nuova, è praticamente nuova, ho questa GTX 1050 Ti MSI singola ventola presa per 139€. Insomma, si possono fare anche questa nuova, si possono fare dei veri e propri affari col warehouse deals, e poi ripeto, avete tutte le garanzie del caso, perché se il prodotto è stato usato troppo, anche se non è mai così, la maggior parte delle volte non è così, o non lo volete più, comunque potete fare il reso. Ragazzi, da Karen è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, quindi mi raccomando, joinate il canale Telegram che trovate in descrizione, noi ci vediamo alla prossima, e fatemi sapere cosa ne pensate voi invece di quello che ne sarà, delle schede video nei prossimi mesi. Se pensate di acquistare qualcosa, o avete i soldi per comprare un RTX, insomma, vorrei sapere la vostra. Ci vediamo alla prossima! Ciao!